Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su LKTV Si è appena conclusa la partita fra Atalanta e Spal e ragazzi sorpresa, sorpresa perché la Spal, ultima in classifica riesce a vincere fuori casa contro una squadra ben organizzata e tosta, veramente tosta da battere soprattutto a Bergamo, che è l'Atalanta Vince 2-1 in rimonta ragazzi una vittoria incredibile io penso che nessuno avrà pronosticato una vittoria del genere da parte della Spal e Atalanta che passa in vantaggio con un gol di Ilicic nel secondo tempo al sessantesimo Petagna parigia i conti per la Spal e al sessantaquattresimo dopo quattro minuti Valoti porta la Spal in vantaggio sul 2-1 nulla sono falsi gli sforzi poi dell'Atalanta nel tentativo in vano poi di cercare di riprendere la partita e riportarla a meno sul pareggio perché la Spal riesce a mantenere il risultato sul 2-1 e a portarsi a casa questi tre punti importantissimi perché la Spal che era ultima in classifica con questa vittoria va al terzo e ultimo posto in classifica a un punto soltanto da Lecce che è quattro ultima quindi a un punto dalla zona salvezza ragazzi veramente una grande 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 impresa da parte della Spal perché come ripeto mi ha lasciato veramente sconvolto questa partita perché non mi aspettavo assolutamente un'Atalanta che perdesse ma poi vedendo il primo tempo l'Atalanta che vinceva 1-0 e via dicendo io pensavo che l'Atalanta avrebbe vinto facilmente questo match anche 2-3 a 0 invece poi nel secondo tempo ecco qui la sorpresa una Spal arembante che riesce a pareggiare e poi addirittura a passare in vantaggio quindi a fare i suoi tre punti in palio quest'oggi ragazzi io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti